Domenica a riposo per Pallacanestro Biella. I Rossoblu, momentaneamente fermi dopo il rivio del match con l'Urania Milano, hanno seguito l'andamento delle partite verosimilmente dall'app del telefono con i risultati. Risultati che volendo sarebbero anche positivi per Coach Zanchi e i suoi ragazzi, perché i Bresciani di Orzi Nuovi, attuale fanalino di coda, sono crollati contro la capolista Udine, in un testacoda della classifica dall'esito abbastanza scontato. La sorprendente vittoria a Pistoia, con cui Orzi aveva chiuso il 2021, aveva però suscitato un certo scalpore, ma il processo di rinascita, di quella che sembra la principale contendere di Biella per la salvezza, è ancora evidentemente abbastanza lungo. A preoccupare lo staff tecnico biellese è la stessa Udine, la prossima avversaria. Questa domenica al forum Salvo Tamponi, i bianconieri friulani sono la squadra del momento. Il primo posto non è casuale, la flessione di Cantù e Pistoia ha rilanciato le speranze dei ragazzi di Boniccioli, che con ogni evidenza verranno a Biella con l'entusiasmo a mille. Il rosso-blu hanno già dato del filo da torcere a tante big. Naturalmente, per avere lo scalpo di Udine occorrerà una prestazione mostre, tutt'altro che scontata dopo il mese di pausa più o meno forzata. Tornando alla zona rossa della classifica, i risultati dagli altri campi segnalano anche lo stop di Capodorlando nel derby siciliano in casa di Trapani. Partita sentita e combattuta per 40 minuti. L'Orlandina perde, ma conserva due punti di vantaggio su Biella e quattro su Orzi. Chi continua a non vedere la luce in fondo al tunnel è Mantua. La squadra delle grandi ex, Marco Laganà, prosegue nel suo periodo nero. La sconfitta al forum, poco prima di Natale, aveva mostrato le enormi lacune della formazione virgiliana. Il 2022 sembrava iniziare in maniera migliore, con Mantua caretto per 30 minuti con Pistoia, ma nel quarto finale ha subito un'imbarcata di 23 punti a 4, un più 19 che non fa molto bene al morale. La lotta, almeno sul campo, è ancora aperta.